Leak! Ben ritrovati i miei cari avventori dell'Usona Bar Calcio, ma parliamo finalmente di cose importanti qua al BFC. Mia cara Claudia, mettiti comoda, mio caro Gioiai, grazie saputo, finalmente parliamo di affari, va bene, finalmente. Mettiamo bando alle ciance per quanto riguarda, ma sì Arnautovic, ma chi se ne frega Orsolini, ma parliamo di cose serie, parliamo di affari, parliamo di stadio, nuovo stadio dall'Ara, ossia la ristrutturazione del nostro impianto. Quando si farà? Si farà e si sì. Quando è che inizieremo a giocare finalmente nell'impianto ristrutturato? E quando giocheremo nell'impianto ristrutturato, nel mentre verrà ristrutturato? Dove noi giocheremo? A Parma? A Ravenna? A Reggio Emilia? A Modena? Dove? Nel giardino mio di casa dove ci sono gli ippopotemi e le giraffe? Questo è tutto questo argomento molto caldo e che ci si tiene tanto. Questa è la nostra Europa, dobbiamo capirlo. Saputo è venuto qua forse per questo punto interrogativo? Lo scopriremo cammin facendo. I più svegli avranno già capito tra le righe, ma non vi preoccupate, c'è del prosieguo, ok? Oltre queste righe d'incipit. Per cui se non vi volete perdere il resto, miei cari inventori, iscrivetevi al canale, condividete tale canale con tutti i vostri amici. Di fede rossoblu mi viene dire calciofoli, ma anche appassionati di edilizia, uomini facoltosi, se siete interessati a sapere dove andare a investire i vostri capitali, qual è il settore che quasi conviene per tanti motivi, allora seguite questo video. Mettetegli un bel miticino. Bene, parliamo di cose importanti, mi verrebbe quasi da dire, finalmente, ok? Bene, 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 nuovo stadio Dallara si farà finalmente, sì, 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 si farà. C'è stata un'importante decisione che ha permesso di, appunto, unificare, di ufficializzare, anzi, l'unificazione dei due progetti in essere, ossia quello di ristrutturare il Dallara, unito al edificare uno stadio temporaneo dove il BFC potrà giocare quando il Dallara sarà in via di ristrutturazione. Quindi il Bologna non andrà a chissà dove per giocare le sue partite, rimarrà in terra felsinia. Ovviamente, dove, l'avevamo già detto i più attenti, già lo sapranno, è stato ufficializzato, mi viene la scialorrea a parlare di questo argomento, perché mi viene proprio come se stessi cucinando le lasagne, ok? La Bologna, i suoi tortellini in brodo di rigoroso barbo whisky, mi viene l'acquolina in bocca solo al pensiero, quindi voi capite. Bene, stavo dicendo, ovviamente, lo stadio temporaneo si erigerà, ex novo, nel centro agroalimentare, là dove c'è l'Afico, ok? Dove c'è tutto quel bel, quel ben di Dio, ok, dell'Afico e, ovviamente, oltre esserci quello che già c'è, verrà edificato l'Afico Arena, impianto che prevederà, prevederà 16.000 posti a sedere, ok, di cui 3.000 fissi. Che cosa vuol dire? Che, fin tanto quanto il BFC, quindi squadra maschile di calcio, il nostro BFC, giocherà nello stadio temporaneo, si presume per due stagioni, per due stagioni, l'impianto avrà 16.000 posti. Dopodiché, dopo queste due stagioni, ce ne saranno altre otto dove il BFC avrà la concessione di questo impianto. In totale, quindi, dieci anni sarà di proprietà del Bologna Football Club. I primi due si gioca il BFC, maschile, squadra di calcio, perché il Dallara sarà in via di ristrutturazione e conterà 16.000 posti. Una volta finiti questi due anni, verranno smantellati 13.000 posti e ne rimarranno solamente 3.000. Quindi rimarranno 3.000 coperti fissi, va bene? Quindi, quando il Bologna calcio maschile non giocherà più, questi saranno a disposizione sempre del Bologna Football Club, ma della primavera e della formazione femminile del BFC. Bene, quindi il Bologna otterrà questo impianto e ce l'avrà in concessione per dieci anni. Spesa totale dell'impianto che sorgerà nell'area di via Fantoni costerà 11.000 euro. Pagati interamente, c'è scritto, dalle casse rosso-blu, ossia pagherà Gioei grazie saputo, al che uno si dovrebbe chiedere, ma con quali soldi pagherà Gioei grazie saputo? Io ovviamente certezze non ne posso dare, ma nello stesso articolo che ho trovato sul Corriere di Bologna, a fine pagina, c'è anche scritto che il Bologna firmerà un accordo che prevederà la concessione delle CRB ad un gruppo spagnolo, la GoFit, e che questo contratto preliminare col Bologna farà ricavare al Bologna Football Club, di cui oggi è lei proprietaria del territorio della CRB, farà guadagnare 10 milioni di euro. Guarda caso, mi verrebbe da dire, molto vicina la cifra degli 11 milioni che necessiterà al Bologna per far erigere la Ficco Arena. Quindi, chissà mai che i quei soldi non possono essere trovati in realtà da quella parte che vi ho poco anzi detto. Bene, ma detto questo, ovviamente non si esaurisce qua la situazione, perché il vero colpo grosso che è saputo, ha da sempre in mente, no, di fare qua a Bologna, ossia smenarsi tanta pilla per lo stadio, viene nella ristrutturazione del Dallara, che ricordiamo inizialmente doveva essere un impianto ex novo, ok, per poi esserci scontratti con la burocrazia, con il comune di Bologna, con tutto quello che in Italia sappiamo, ok, dover scontrarci ed essere quindi infattibile molte cose, allora si è venuti ad accettare il fatto che vada per la ristrutturazione. Ristrutturazione che costerà in totale una cifra tra i 140-150 milioni di euro. Che bello, tutte queste cifre nell'edilizia, tutte queste cifre nell'edilizia, caspita, di cui 40 milioni, 40 milioni saranno garantiti dal comune di Bologna, quindi il che vuol dire che il restante 100-110 milioni li dovrà garantire il Bologna Football Club, e quindi, almeno all'oggi, li dovrà garantire gioiei grazie saputo che probabilmente sarà quasi contento di garantirli, ok, perché non andiamo a comprare giocatori, a perdere, andiamo ad investire soldi nell'edilizia, bene che è sempre, diciamo, un bel investimento. Bene, questo lo sappiamo, bene, andiamo avanti. Cos'altro c'è da dire? Il nuovo impianto, quindi, Dallara, conterà 30 mila posti e, appunto, con il comune si sa già che il Dallara sarà servito dalla linea blu del tram che si sta anch'essa, appunto, tra virgolette, costruendo in questi anni. Bene, quindi il Dallara sarà super servito. Che altro dire? Quindi, ci sono i tempi. Quando accadrà tutto questo ben di Dio? Allora, di certezza ancora, dir il vero, sui tempi non ce ne sono, però c'è qualche data, perlomeno. Per costruire la Fico Arena, ok, ci vorranno tra i sei e gli otto mesi e tutto sarà pronto entro la fine di questo anno per incominciare ad erigere questa robetta qua alla cab. Quindi si presume, si presume che a partire dal girone di ritorno dell'annata prossima, si dice, quindi 2023-2024, il Bologna potrà trasferirsi nell'impianto temporaneo. Ma non si esclude ulteriori ritardi e quindi che si slitti all'inizio dell'annata 2024-2025. Non è escluso. Una volta che ci trasferiamo nell'impianto temporaneo, ci vorranno due anni per ristrutturare il Dallara. Pertanto, se, nella peggiore delle ipotesi, il Bologna incomincia a giocare l'annata 2024-2025 nel impianto temporaneo, andrà a giocare finalmente nell'impianto ristrutturato del Dallara solamente dalla stagione 2026-2027. Questo è il piano oggi. Voi capite che se andassimo a vedere quello che si era detto un anno e mezzo fa su questo stesso canale, su per giù siamo in ritardo di almeno due anni. Ma vabbè, sappiamo che la burocrazia in Italia è molto labirintica, diciamo così, e quindi, come dice, e citando la Claudia Fenucci, siamo stati anche veloci, dopo tutto. Insomma, vabbè. Quindi nel 2026-2027, fatemelo aggiungere, forse, perdonatemi, forse si giocherà nel nuovo impianto ristrutturato. Quindi, ricapitolando, impianto temporaneo costa 11 milioni di euro garantiti da Gioè, grazie saputo. Impianto ristrutturato del Dallara, ci andremo a smenare delle casse del Bologna, del Bologna Football Club, 100-110 milioni di euro. 40 milioni sono garantiti dal Comune di Bologna, che dice, non ci dovremmo preoccupare eventualmente, si cambierà appunto in futuro progetto, nel senso, se cambierà il sindaco. Oggi c'è l'Epore, se dovesse arrivare una nuova giunta in futuro, avranno fatto degli accordi, per cui questo contratto che stanno stipulando non potrà essere rivisto. E quindi il progetto andrà avanti, dico io aggiungo, anche qualora dovesse arrivare qualcuno che dovrebbe dire, giammai stracciamo tutto, non si potrà fare. Si ho capito bene. Si ho capito bene. Quindi, queste sono le cifre. Il nuovo impianto, non so se l'ho detto, lo ripeto, del Dallara, conterà 30 mila posti. Va bene. La storia del Cerebi Club, l'ho già detta all'interno di questo documento video, sull'aggiornamento del nostro stadio Dallara, che punto sta la situa della ristrutturazione. Quindi, quanto pare, ricapitalando infine, sembra che si stia arrivando, quantomeno a delle date, che prima, un mese fa, tanto per intenderci, non esistevano minimamente. Adesso c'è un'apparvenza di magari potrebbe essere che, è già qualcosa, staremo a vedere, erano già state date in precedenza. Poi erano successi che erano cambiati i prezzi aumentati del metallo, del petrolio, del gas, dei tortellini. E quindi doveva essere fatto tutto. Chissà mai che in futuro non debba essere fatto tutto, non lo so. Non mi interessa, sinceramente, l'importante è che Saputo riesca ad investirci in questo campo. Io dico, perché è la nostra partita principale. È molto importante, evidentemente, che il Bologna possa contare di uno stadio in futuro, di proprietà. Anzi, ecco una cosa che non ho detto. In realtà non è di proprietà. Lo stadio, come abbiamo detto, temporaneo, è in concessione al Bologna Football Club 10 anni. Lo stadio, ristrutturato del Dallara, se ho capito bene, dovrei andare a vedere, ma è in concessione per 40 anni. Penso di aver capito. Poi, ovviamente, si potrà prolungare. Adesso ci penseranno poi. Le generazioni future, adesso non ho sotto mano la notizia, ma penso di ricordare che sarebbe in concessione con il BFC per 40 anni. Quindi questa è la situa oggi dello stadio. Partita, come detto, importantissima. Vediamo di vincerla. Eh, eh, Claudia, va bene? Saputo, gioia e grazie. Bene, benissimo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Attivate il campionaggio pastorale e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacca da bar!